Il secondo anno che l'UISP accompagna la Fondazione Farm Factoring in questo suo viaggio attraverso l'età della vita, l'anno scorso con gli anziani, quest'anno con gli adolescenti e il prossimo anno con l'età matura. Per noi è davvero un piacere, in particolare per quanto riguarda questa edizione dedicata agli adolescenti, poter rivivere attraverso queste bellissime foto un'età fantastica di scoperte del proprio corpo, della libertà di esprimersi, dei rapporti con i pari, delle emozioni e anche dei problemi che gli adolescenti incontrano nella loro vita, con l'attività fisica che diventa un grande strumento di libertà e di espressione delle proprie emozioni. Quindi per noi è davvero un piacere rispecchiarci in queste immagini. Grazie a tutti!